Ben tornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come Striscia la notizia, sta per tornare con tante novità, prima tra tutte la nuova coppia di veline, scopriamo tutti i dettagli al riguardo Striscia la notizia, è in arrivo su canale 5 con una nuova e imperdibile stagione che lascerà i telespettatori a bocca aperta, visto che non mancheranno novità Tra le tante, una in particolare riguarda la nuova coppia di veline che prenderanno parte del grande progetto Mediaset È stato appena pubblicato un post di presentazione sul profilo social del TG Satirico, non ci resta che scoprire più dettagli sulla mora e la bionda che faranno compagnia al gabibo e al pubblico italiano Striscia la notizia, quando avrà inizio il TG Satirico, il programma firmato Antonio Ricci tornerà dopo il TG 5 a partire dal 27 settembre con una serie di novità per il pubblico Si tratta della 35esima edizione di, Striscia la notizia, e i telespettatori fedeli non vedono l'ora di seguire le puntate Il gabibo sarà la mascotta anche quest'anno, è lui il personaggio del programma e nessuno può farne a meno Non mancheranno scherzi, sketch, servizi di un certo spessore e tanti tapiri d'oro in giro per l'Italia E tutto pronto per la nuova stagione, anche le due veline che dovranno conquistare la stima e l'affetto degli italiani Ecco chi sostituirà Giulia Pelagatti e Talisa J. Dravagnani Le nuove veline, chi sono, sul profilo ufficiale di, Striscia la notizia, è stato pubblicato il post della presentazione delle nuove veline, Cosmeri Fasanelli e Anastasia Ronca andranno a formare la nuova coppia del TG Satirico Cosmeri Fasanelli sarà la velina mora A 22 anni, è nata a Brindisi ed è cresciuta tra sport, danza e studio Ha iniziato il suo percorso da ballerina all'età di 3 anni e mezzo e poco più che adolescente è arrivata ad esibirsi a Tussichevales Successivamente si è trasferita a Milano ed è nella città della moda che inizia a frequentare eventi mondani e a partecipare come ballerina a diversi programmi televisivi, anche come concorrente ad Amici Considera il talent di Maria De Filippi un'esperienza di vita Cosmeri sembra aver conquistato la produzione di, Striscia la notizia, per la sua solarità, umiltà oltre al fatto di essere un toccasana per gli occhi quando balla Anastasia Ronca, invece, sarà la velina bionda. Anche lei ha 22 anni ed è napoletana E, nata a Somma Vesuviana ed è un'appassionata di ginnastica artistica Sua madre le ha trasmesso la passione e le ha fatto da coach nel corso degli anni Ha frequentato l'Istituto di Arte e Moda e finita la scuola ha iniziato a lavorare come Modella e fotomodella. Nel 2019 appare a Colorado, come Miss Colorado, nel 2021 a Temptation Island Segni particolari, silenziosa e determinata, il suo sogno più grande è fare l'attrice o lavorare nell'ambito moda. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video